la barriera è sparita entriamo reliquie celeste c'è un dato registrazione testuale tutto sommato le macchine della sobek sono davvero banali possibile che dei robot di terraformazione debbano per forza somigliare alle lucertole giganti la metafora della megafauna è ormai trita e ritrita e quindi che hai fatto tu? hai creato qualche altro essere ok c'è un ingresso andiamo in quell'ingresso oh c'è gente la tua gente è un altro graffito sì perché stanno lì ad aspettare scopriamolo insomma guarda dove vai vediamo che succede seica vi volete unire a noi unirmi sì esatto è così c'è voluto un po' ma ce l'abbiamo fatta vediamo una selvaggia tra i prescelti i prescelti per fare cosa come siete entrate senza Z è stato lui a mandarci in realtà dopo che l'abbiamo salvato da quell'imboscata là fuori sì vedete stavamo venendo in qua ma siamo stati attaccati dalle macchine venendo in qua ho provato a resistere ma erano troppe per fortuna Aloy è venuta in nostro soccorso stavo esplorando la regione quando li ho visti e allora li ho aiutati subito dovevate vederla una delle migliori cacciatrici che abbia visto è anche riuscita a salvare la vita Z ho fatto quello che potevo Z aveva non so che faccenda di cui occuparsi quindi ci ha detto di proseguire senza di lui poi ci ha spiegato come abbassare la barriera e ci ha detto di entrare subito dentro Z ha davvero avuto bisogno dell'aiuto di una selvaggia beh serve a tutti un po' di supporto di tanto in tanto beh se le autorizzate non ho intenzione di rischiare una delle sue sfuriate avvisa agli altri che abbiamo due nuovi ospiti ti va? e sia ma non entreranno nella sala dell'ascensione finché non dimostreranno la loro fede come tutti gli altri e io sarò tutto orecchie quando sentirò la versione di Z al suo ritorno oh ci mancherebbe va bene ignoratelo buona fortuna Sega possiate accogliere la sua luce e vabbè qualche altro santone bello oh là c'è qualcosa vabbè poi le cosine quindi non abbiamo altro? no quanto pare no entriamo vediamo che cosa sta qua dentro eh sembra una brava persona andiamo alla sala dell'ascensione prima di incontrarlo di Londra benvenuti per scelti avete vagato sofferto ma ora siete liberi perché vi ho ritrovati e voglio offrirvi ciò che meritate l'ascensione l'ascensione per cui riposate dimenticate quello che sapete e abbracciate questo momento ci attende un nuovo mondo vai apri di se siamo guardalo no quanti mani hai oh mio dio guarda portiamo Londra vorrei presentarti alcuni miei vecchi amici vedi eravamo alla più grande festa in città brindavamo alla vittoria e mentre godevo dell'attenzione di tutti il mio ex socio d'affari irruppe nella stanza era invidioso del nostro successo e così mi lanciò addosso il suo drink ma non mi sfiorò neanche perché la mia guardia del corpo Jack lo sbattè a terra e gli altri Riley Nolan e Parker volevano cacciarlo fu però la mia Evelyn a consigliarci di farci una risata sopra li adoravo la loro devozione era tutto per me valeva più di qualsiasi premio e alla fine fu la più bella serata della mia vita buon per te Londra è abituato ad avere gente che lo venera odioso vediamo quest'altro questa parita la timeline Kiral quindi l'ascensione intende il fatto di andarsene dalla terra nella mia vita precedente l'ennesima incursore condannata a una spedizione disperata non importa come dice Walter dimentichiamo il passato la sofferenza ci ha condotti qui e ora l'ascensione è ormai alle porte questo posto è davvero meraviglioso non trovate non ho mai visto niente di simile e questo è niente in confronto alla sala dell'ascensione tu ci sei entrata certo ho dato prova della mia fede vale questa prova cosa vi aspetta cosa vi aspetta hai detto che ti mostreranno cosa vi aspetta noi siamo qui da poco pensavo che la sala dell'ascensione fosse l'ultima meta non sei l'unica a non cogliere la portata del piano di Walter ora che ho visto la sala il mio grado è al sicuro ma non può essere tutto qui quello che offre ne sono sicura ed è per questo motivo che i devoti vengono condotti altrove appena Zet tornerà ci porterà anche me sono pronta hai idea di dove si trovi questo posto in un luogo che ci avvicinerà Walter al suo abbraccio la sala dell'ascensione così hai visto la sala dall'interno ed è davvero speciale come dicono meglio che non risponda non voglio privarvi di questa esperienza unica e dai Kiral almeno un indizio stiamo morendo dalla curiosità qui sappiate questo sconvolgente sconvolgente come il momento in cui Walter è apparso di fronte alla barca ma meglio provate la vostra fede e vedrete come la proviamo questa fede andiamo beh grazie della conversazione Kiral dobbiamo tornare a studiare Walter ora sì ma certo in bocca al lupo con lo studio spero di rivedervi all'ascensione va bene ci rivedremo all'ascensione allora prima di andare lì andiamo a vedere l'altro un altro hologramma siediti io mi dono se dire ti racconterò una storia bella saco un tempo avevo una casa su questo mondo con una vista spettacolare sulla città io e mia moglie adoravamo sederci e amirare le sue luci che brillavano nel buio della sera era il nostro momento di serenità ma poi giunse la triste era delle ceneri e quando il cielo ci offrì una via di fuga mi salvai solo io cogliendo il segreto dell'immortalità Evelyn e tutti i miei cari scomparsi rimasi da solo ed è per questo che sono così felice di aver trovato te presto io e te passeremo l'eternità su un nuovo mondo un intramonto insieme la mia storia un altro punto lì allora ci fa la penichella andiamo a vedere questo è il punto ristoro ok quindi abbiamo visto tutto questo è un punto ristoro va bene andiamo giù andiamo qua c'è bomba appiccicosa fuori tutti i soldi va bene va bene possiamo andare alla sala dell'ascensione ma si ho visto tutto andiamo sempre lui Trenic oh la nostra santerellina e la selvaggia ha tutto senso adesso l'era delle ceneri le alluvioni nel grande delta abbiamo vissuto in un ciclo di distruzione ma presto scopriremo un nuovo mondo una promessa amica male avete dimostrato la vostra fede siete pronti a fare il prossimo passo vi ci condurrà Zed appena sarà tornato chi è sto Zed non così in fretta la vostra buona azione là fuori vi avrà portate fin qui ma non riceverete un trattamento di favore Walter mi ha concesso il privilegio di sorvegliare la sala dell'ascensione finché non completate la verifica e imparate la formula del compimento questa porta resta chiusa nessuna eccezione va bene va bene allora torniamo più tardi dove la impariamo questa formula mi sa che dobbiamo superare un esame per dimostrare la nostra fede in Londra non so quanto tempo abbiamo prima che torni questo Zed ci sarà un modo più rapido per imparare la formula del compimento cerchiamo in giro e cerchiamo però dovuto che la formula sia negli ologrammi che abbiamo visto ma possono aiutarci ad approcciare gli altri forse qualcuno ci darà una mano magari ha un impegno da qualche parte allora dobbiamo indagare ricorda che cosa ha detto Walter riguardo all'accogliere il futuro sembri poco entusiasta di questa storia rispetto al tuo amico dovrei dimostrare più entusiasmo vero beh avere dei dubbi è normale l'Anna era fuori di sé quando siamo entrati nella sala non vede l'ora di scoprire che succederà ma temo solo che sia tutto troppo bello per essere vero perché non te ne vai allora non posso lasciarlo abbiamo fatto di tutto insieme le missioni la tempesta il naufragio è presto l'ascensione pare i tuoi dubbi la maggior parte dei quen sembra voler seguire londra perché tu no all'inizio volevo crederci le sue parole sembravano riempire ogni mio vuoto come se avessi finalmente trovato una vera casa ma ho ricordato di come i quadri ci ripetessero di onorare le virtù dell'ascito di essere buoni e onesti per poi imprigionare mio padre perché aveva protestato contro un decreto imperiale non so se qui sia diverso walter sarà anche un antenato vivente ma con un brutto come zetta al suo servizio della sua bontà mi fido quanto di quella dell'impero come siete finiti qui quanto ne sanno nel vostro insediamento siete spariti nelle terre selvagge come siete finiti qui io e l'anna eravamo in ricognizione sulla terra ferma ma le cose si sono messe male eravamo smarriti e affamati senza vie di fuga finché walter non ci ha trovati un antenato vivente sbucato dal nulla per dirci che eravamo stati scelti che eravamo salvi ci ha convinti subito qui tutti hanno una storia simile e per quale ragione nessuno è venuto a dirci niente non tutti sono prescelti walter dice che dobbiamo scordare le nostre vecchie vite se vogliamo ascendere tutti gli hanno creduto io per primo cosa succederà ti hai detto che l'anna è ansioso di scoprire cosa succederà ti sei già fatto un'idea mi aspetto che ci sarà un'altra prova un po' come qui dopo la sala dell'ascensione si viene condotti altrove da Z lui e i suoi soldati sono gli unici a fare ritorno parlano tutti di Z ho l'impressione che non sia un tipo cordiale cordiale come un rogartiglio ma non solo lui ma anche per i soldati che lo seguono sanno di poter fare quello che vogliono ora che non rispondono più all'ammiraglio o alla conformità va bene ah cerchiamo la formula del compimento il scetticismo è giustificato londra ha in mente qualcosa dici dici ok la loro devozione devozione o adorazione eh è la fede che ripongono in lui giusto? proprio così ah visto andrà tutto bene non saprei forse una pessima idea senti qualunque cosa londra voglia da voi non è buona chiunque sia qui incluso il tuo amico è in pericolo tu puoi aiutarci a fermarlo va bene dite questo a Brannic solo tramite la fede accoglierò la sua luce solo grazie a lui raggiungerò un nuovo mondo sei stato d'aiuto grazie Otosu spero sappiate ciò che fate grazie Otosu abbiamo la formula del compimento Brannic ci farà entrare nella sala dell'ascensione andiamoceno andiamo ve l'ho già detto senza formula del compimento non vi faccio passare oh sappiamo la formula Seika? no no tu meriti l'onore Aloy oh capro solo tramite la fede accoglierò la sua luce solo grazie a lui raggiungerò un nuovo mondo nessuno ha mai passato la verifica di fede così in fretta beh noi sì ora puoi farti da parte non so tu ma io ne ho già abbastanza di Londra già vedremo che cosa hai in mente cosa consiste questa ascensione va bene andiamo vai alla sala dell'ascensione eh eh andiamo e lì rimane lì? per tutto questo punto sono rimasti nascosti chissà se la vedono tutti così qualcosa ti preoccupa provare risposte nella sala dell'ascensione ecco tutto registrazione vocale ascoltiamo ho sentito un tono diverso nella voce di Nova una minima punta di riunanza ah quello che abbiamo visto prima l'empatia ma l'abbassatore l'empatia sempre collegato a quello un altro ologramma un ascensore vediamo ah no un ascensore vediamo prima se c'è qualcosa nei dintorni ma mi sa di no no andiamo ecco perché scendere è un ascensore ah 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 oh 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 genati è così che ascenderanno Londra sta costruendo un'astronave meglio dare un'occhiata da vicino le nuvole non sono reali è tutta un'illusione mmm troppe casse mi vanno a prendere e andare là sotto se c'è un punto dato è tutta un'illusione registrazione vocale ascoltiamo la mia creatura nata per necessità nel grembo di un orus è decisamente più ingegnosa dei suoi antichi predecessori nemmeno Shibumbe poteva prevederlo il focus cos'è questo suono è un allarme credo per le radiazioni qualcosa di nocivo adesso dovrebbe essere sicuro controllerò meglio la nave va bene dimmi cosa scopri che cazzo ma che è mi sembra un'astronave l'effetto è un'astronave vuole veramente abbandonare la terra questo spazio è per i seguaci di Londra ma non ce n'è abbastanza per tutti di nuovo la sigla PSR cosa significa? motore propulsore qui va già ecco perché ha preso i dati da quel vecchio prototipo nella sua base vuole usarlo per ottenere la spinta necessaria Londra ha riattivato la stampante dell'horus per costruire la nave bene ho visto abbastanza che brutta faccia dimmi tutto l'horus ha un componente speciale in grado di costruire qualsiasi cosa parti strumenti anche intere macchine Londra lo usa per creare e ciò che gli serve per la sua nave ma per riuscire a decollare alla nave serve parecchia energia molta più di quanta Londra ne avesse a disposizione così ha rubato qualcosa alla sua vecchia società esatto una parte dei dati che ha preso riguardava una specie di motore di motore uno che è più tossico non si può se la nave dovesse partire inquinerebbe questa terra e tutte quelle delle tribù nella regione morirebbero tutti avvelenati però c'è qualcosa che mi sfugge perché Londra dovrebbe fare tutto questo solo per andarsene è un fatto strano ah perché c'era il Nemesi sì il Nemesi che distruggiva il pianeta quindi lui lo aveva fuggito giustamente mia sorella merito di santo diglielo dai diglielo ah Z direi che il tempo è scaduto oh deve essere il caro Z sparbagliatevi stanno arrivando i rimborsi è arrivata la vostra fine mai visto prima un cannone come quello deve essere un regalo di lontano come ce ne andiamo più abbandonati Z ha attivato l'isolamento ma forse si può mettere fuori uso si può vivere e 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 si può vivere quelle bambine non ti ascolta non ti ascolta no no fuoco non non la colpita Oh No, che cacchio di atto è Ok Brava, bell' atto ce l'hai tu No, che cacchio di atto ce l'hai tu No, che cacchio di atto ce l'hai tu No, che cacchio di atto ce l'hai tu No Ok Come faccio a fare quello lì? Un generatore toglierà l'isolamento Ai No È collegato ad altri due nodi Su, occhi aperti Perfetto, l'isolamento ha bloccato tutto Dobbiamo andare a trovare lato generator Dobbiamo andare a trovare lato generator Eccolo Anche l'ultimo Sì A Se lì Mi 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 Si Perfetto E facciamo Override Vai E adesso A noi Zer No c'è ancora lo scudo Non ci provare C'è in faccia Attacco dalla distanza Sta arrampicando Prendiamola Ok Bisogna Aperte le porte Conoscevo Alcuni Di quegli Impulsori E ti Poi me lo dice Ah no Non so Che distraire Pensiamo a Z Comprendo La vostra paura Vai Adesso Scontro All set Perfetto Piacere a tutto Piacere a tutto Mori oh io ho tolto ho tolto l'elmo ho tolto l'elmo ho tolto l'elmo cani seria no vai ok ah fatto arrivano vrenic dove avete portato la nostra gente rispondi alla domanda ha condotto i fedeli il suo parco nella penisola sud c'è un'altra torre eh wow non riesco a capire Londra ti sta sfruttando per i suoi interessi ammettiamolo sei una preda facile talmente pieno di te da non vedere la verità perlomeno gli hai dato parecchio a cui pensare adesso voglio sapere ogni cosa perché Londra vuole andarsene perché c'è una Nemesi qualcosa si avvicina alla terra ha distrutto il mondo da cui è fuggito Londra e vuole fare si sta arrivando sulla terra per distruggere tutta distruggere il mondo chi potrebbe mai riuscirci si chiama Nemesi è come una macchina è come una macchina ma più potente di quelle che io e te abbiamo mai affrontato che si fugge è un'astronave e suppongo che voglia portarsi dietro alcuni di voi senti so che è molto dura da accettare ma c'è ancora speranza se lo dici tu sai che io c'è una spiaggia sulla costa sud-est dell'isola dove abbiamo distrutto la prima torre credo che sia il punto più vicino al parco di Londra e forse è il caso di fare rapporto all'ammiraglio dirgli quello che è successo qui bene ci vediamo alla spiaggia ci vediamo alla spiaggia allora dai cavolo poteva andare meglio molto molto meglio sei che sembrava così desolata perché mi sento così anch'io che posso fare per ora meglio dare inocchiata a quell'arma zenith vediamo il guanto da questo posso tirare fuori qualcosa di utile fatto la metterò alla prova appena uscita da qui meglio controllare come stanno i quenna prima hai una nuova arma nell'inventario il guanto spectre è un'arma potente e versatile in modalità raffica di frammenti puoi sparare proiettile ricerca da contro il design nel quale è piazzato un designatore usa r1 per piazzare un designatore su un nemico equipaggia è una nuova arma vediamo inventari armi eccolo quanto spectre speciale usa lo mettiamo al posto di questo vediamo ah questo è brutto del coso guarda ve lo scuso guarda che bello guarda va bene guarda Dobbiamo trovare il modo di fermarlo Quando avrò sistemato le cose Walter ci ha abbandonati Brennick deve aver rivelato a tutti gli altri la verità E a Londra non importa niente di loro Si stanno litigando Tutti disperati Hanno perso la loro fede Oh ascensione rivelata Le stelle nei loro occhi E a Londra non importa niente di loro E a Londra non importa niente di loro